Musica Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cure93 Allora, questo video lo faccio principalmente per darvi un assaggio della modalità zombie di Buried Ovviamente io ho già fatto un gameplay, l'ho già editato, il video è già pronto Lo sparerò domani perché voglio tenervi un pochettino sulle spine E ho giocato poco, ho giocato più o meno il gameplay sui 25 minuti Però ho giocato sui 5 round, adesso ho fatto 8 nella seconda partita Giusto per darvi un assaggio, per farvi vedere le armi, per farvi vedere un pochettino il posto, tutto quanto Spero che vi piaccia, spero che vi abbia convinto A comprare, se no, altrimenti continuo a fare dei gameplay O se volete voi, se me lo chiedete ovviamente se vi fa piacere Io continuerò a fare dei gameplay su questa modalità zombie Per farvi incuriosire, per farvi avere la voglia di provarla Comunque saperne ragazzi è veramente buona, ottima mappa zombie Perché è interessante, ci sono delle varie cose che mi hanno colpito principalmente Come vedete domani c'è un gigante, ci sono le streghe, c'è un castello, c'è un labirinto C'è il buck a punch che è nascosto nel labirinto Scusate stavo sbagliando, faccio vedere solo il gigante domani cazzo Ve lo giuro ragazzi, molto bello, ovviamente nel video non potrete vedere questo Perché? Perché io sono coglione Diciamo la partita che ho fatto in questo momento, 5 minuti fa Non l'ho registrata perché ero con dei miei amici Quindi niente ragazzi Vi faccio vedere un primo gameplay L'assaggio ovviamente che è stato anche per me un assaggio L'ho provato anche io per la prima volta Io vi faccio vedere la casa stregata Con tutte le streghe che ovviamente si affacciano man mano nelle finestre E spero di avervi inclusi tutto al punto Da farvi venire voglia di provare questa mappa Quindi che dire ragazzi, vi lascio al video Durerà più o meno sui 10 secondi 12, massimo 15 Adesso non mi ricordo bene E niente ragazzi, bella raga Ci vediamo domani Adesso non mi ricordo bene